Si è svolta domenica scorsa, nella sede della Fondazione De Leo Pacetta Onlus, la cerimonia di premiazione del concorso Gioia nella solidarietà per una nuova umanità, indetto per commemorare il primo anniversario della scomparsa di Domenico De Leo, fondatore e primo presidente dell'omonima fondazione. Obiettivo del concorso, rivolto a tutti gli alunni e agli studenti e residenti a stilo, è stato quello di porre le basi per una cultura della solidarietà tra le giovani generazioni, affinché essi siano soggetti attivi di una società più autentica, basata sul bene comune. La cerimonia si è aperta con il saluto dell'attuale presidente Carmen De Leo, figlia del fondatore, che dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha sottolineato come sia preciso compito della fondazione proseguire nel nobile percorso tracciato da Domenico De Leo, con attività per quanti si trovano in condizioni di svantaggio. In particolare, la Onlus offre un servizio di trasporto completamente gratuito verso l'ospedale di Locri, a quanti, anche di paesi limitrofi, periodicamente devono sottoporsi a dialisi. La presidente ha poi presentato e ringraziato la giuria, composta da Mirella Pacifico, docente formatore e componente di diverse commissioni del MIUR, Lucia Commisso, artista poliedrica ed esperta d'arte, ed Elton Mucca, che è anche socio consigliere della fondazione. Ad intervenire poi la professoressa Pacifico, che ha tracciato un profilo della figura di Domenico De Leo, soffermandosi sui tratti più salienti della sua personalità, caratterizzata da una grande passione per il suo lavoro e contemporaneamente da un'altrettanta passione e rispetto per la persona. È importante, ha dichiarato la Pacifico, che le giovani generazioni crescano con la consapevolezza che niente di ciò che succede all'altro debba essere sentito come estraneo. Si è quindi poi entrati nel vivo della premiazione, Domenico e Anna Chiara De Leo, nipoti del fondatore, hanno consegnato a tutti i partecipanti al concorso una medaglia ricordo e una cartella contenente materiale scolastico. Successivamente l'autoressa Lucia Commisso ha illustrato le motivazioni che hanno determinato la scelta dei tre disegni vincitori, aderenza al tema della solidarietà, originalità sia nell'ispirazione del soggetto che nella sua realizzazione, efficace nella comunicazione del messaggio. I lavori premiati sono stati realizzati tutti da l'unni frequentanti la scuola primaria, precisamente Vittoria Lioi, classe terza, Alexia Gallo, classe terza e Rebecca Fiorenza, classe quarta. Il dottore Elto Muca ha consegnato a ciascun di loro una busta contenente la somma di 200 euro, quale piccolo contributo per le spese sostenute per lo studio.